Ciao, io sono Marcus Clare, signore e signori ben tornati nella Spacecraft Nell'ultima puntata abbiamo fatto un fiasco fiaschissimo Dopo una puntata di fiaschi fiaschissimi Dopo una puntata di super fiaschi fiaschissimi, sì Vedete, questa qui è la fiascocraft Davvero, 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 davvero Perché io ho tutte le teste di cazzo Ma non ho la testa di scheletro che mi serviva per fare Suo questo... Blablabla, blablabla, blablabla Lala kebab Eh? Allora? Allora io tolgo tutto quanto e accanno i miei per buoni propositi Ho fatto anche dei dolly di diamante Nel caso in cui ci dovessimo ritrovare un'altra situazione In cui tipo su mercurio ci stanno gli spawner di pig Beh li prendiamo Magari è buono magari no Ragazzi io vi affido alle quest Seguo le quest che è più meglio assai Wooden killer Facciamo un po' di questina Wooden killer Eccolo qua Cazzo è da tantissimo che non facevo questi crafting super normali Più che altro se non rompo qua Ha una certola Oh ciao Oh ciao Ho lasciato tutto il mio legno finisce Eh 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 Marcus Cron Marcus Cron Ho finito l'ascia No regà fermi tutti Ho finito l'ascia o raddoppia Fermi tutti Quindi vuol dire lì c'ha delle Oh 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 Vediamo un po' Perché non posso usare Ah scusa È casa Ah perché c'è sto coso di merda Eccola Smanca l'ascetta Bella Allora Farrow Diamante Poi 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 Che facciamo? Facciamo l'upgrade Eh? 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 Ma si Ma cremi l'avarizia Single block Meno male Che è successo questo E non quell'altro Io mi riattivo questa Perché sono uno zuzzissimo E E Pai imbata Vieni giù Cos'è successo? Cos'è laggiù che sta? Oh my god Ah è un ragno Ciao 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 Ti prego Esci da questa situazione Violacea Ok ho rotto tutto Però sono salvo Sono falvo Falve Falvo Com'è falve? Allora questo qui lo rivettiamo qua Ah? E questo qui Lo rivettiamo qui Molto bene Allora Dobbiamo renderli diamantosi ragazzi Come possiamo fare per renderli diamantosi ragazzi? Basta circonnavigare di diamanti ragazzi Come Amirico Vespucci fece con Basta ragazzi Dov'è il legno? Dov'è il legno? No davvero scusa Io l'ho conservato Eccolo qua Stavo scherzando Ah ah Siete caduti in uno dei miei soliti scherzosi Scherzosi Bazinga Allora Io farei Delle azie Ne farei una Due Tre Quattro E cinque Molto bene Poi prenderei questa Farei così Così Prenderei il Chopper E poi ci metterei un'assia Ed ecco qua il Diamond Chopper Oh! Erby Dov'è? Eccolo Diamond Chopper Possiamo clamare In Nettubes I Diamond E una Reward Bag Se adesso mi esce qualcosa di utile La butto Perfetto Niente di utile Ecco qua Paul Ma è Gerry Scotti Ma tu sei Gerry Scotti Perché prendi danno? Paul Non dovresti Paul C'è ossigeno Guarda Oh Cristo Ah cazzo 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 Fermi 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 Povero Paul No Così? E Aragno e levate Ecco qua Adesso Paul dovrebbe poter vivere con noi Per sempre E' vero? E' vero? Si? Si? Bella Paul Come stai? Eh? Sei brutto quanto la merda Incastrari qui dentro E levate d'Arcasius Ok Poi 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 Ah no ma io ce l'ho le stick Ma che cannofando dice Enzo Ci serve Che ci serve? Una pala Una Aue Aue Una Due Tre Quaccio E cinque La quinta la mettiamo qui I diamanti Ci facciamo il giro tondo Andiamo a prendere la nostra Planter E voilà Ottimo lavoro ragazzi Complimenti E poi infine dovremmo fare questo Ma non mi va Adesso questi qui li trasformiamo In diamantollissimi Oh mio dio così tanti diamanti consuma? Ma sei un figlio e buttana Quanti diamanti ho? Posso farlo Posso farlo ragazzi Posso farlo Quando uno può farlo Può farlo Oppela E oppela Questi diamanti ve li riprendo Allora andiamo a sistemare le cosine qua Ci serve Innanzitutto Questo e questo via Questo Perfetto Poi facciamo così E Lo E no Ah Ah Dove lo metto qui? Tatatata 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 Ok Chiuditi E di qua ci mettiamo le asce Asce o raddoppia? Non lo so Vedremo Vedremo in seguito Perché non mi metti la sci sci scia dentro? Eh? Oh mio dio Ah ok Eccola qua Perfetto Quattro asce e quattro brindiers branfric Che è il nome scientifico del chopper Ora lasciatemi rompere qui Fate rompere i coloni Qual è questo? È il planter Quindi no Il chopper Non credo che fosse così Sapete? Mmm No Facciamo che andiamo Oh Questo qui è un mio piano tentativo Mi sono spaventato Quando l'ho visto Di fare un portale del nether Che volevo fare tutto un giretto Ah ragno Volevo fare tutto un giretto del cassius Ma non ha funzionato Mi dispiace Mi dispiace Oh Oh Fregate Faze Faze E che Allora Qui Eccolo qua E ce ne mettiamo 12 Perfetto Di qua Dov'è? 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 Il coso intorno a me Dov'è? Dov'è? Ci ho buttato dentro a te Eccolo qua Perfetto Vediamo se sta piantiggiando No Perché no? Perché no raga? Perché No Paul Che cosa fai? Non finire Nello spazio Profondo Paul mio Ma perché ho messo qui Il ciocco di legno? Ah Bene Allora Uh Questo c'è finito Non voglio che ci finisca questa Perché non credo che vada bene L'ascia non ce vuole annà Perché l'ascia non ce va? Dai Ascia Ascia Ascissima E su Bello de casa Sì Sì vedi? Ah forse perché sta sprecendo Cercando Però dai Questo c'è arrivato Quindi Men che non si dica Vabbè faccio io No Cosa Cosa diavolo What the fuck È successo raga Ok Waiting for tonight Ok sta funzionando E se non vado al razzo Questo qui dovrebbe stare qua Perfetto Bene 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 Ok Adesso che ho sistemato questa cosa Perché davvero E tra l'altro sono uno stronzo Ah no Non sono uno stronzo Sì che sono uno stronzo Vedi che sono uno stronzo? Merda Uh Gli unstable ingot Interessante Cosa potremmo farci Con gli unstable ingot Potremmo fare tante Dittissime cose Ma Lascia con tre Quindi No No Per ora li conservo Questi upgrade Me li tengo per Il killer Il killer What the killer Questo qua Quindi io prendo Una bellissima di questa Vado a fare una Chest Me l'ho impallato raga Chest Eccola qua Poi ci vuole legno grezzo Quindi Facciamo così Yeah Bada fuck Quando ti guardi intorno Vedi i bambini poveri E non solo Lo so che non è facile Per Porco Ma neanche per me Quando ti guardi intorno Ai bambini poveri E ai 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 Ok Ci dovremmo essere Perfetto Ragazzi Il killing Gioche Che Dovrebbe essere Un coso Per ammazzare I cristiani Quindi Armiamoci di buona pazienza Andiamo fuori A vedere come funziona Eccoli qua i cristiani Merda Merda Ok Allora Io metto Il killer Gio qui Ci metto questo Questo E questo Non mi prende l'idrogeno Perché Vabbè Tanto E' stata Menata Cioè Menatemi pure No Oh porca paletta Ah cari ragazzi Il killer Gio Ah no Eccolo qua Non volevo morire Ok Sì Perfetto Lo funziona Ok Sta funzionando A me non sembra Uh si 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 Gli sta dando le botte Ah Oh ma morite Ma li mortacci Ma quanto gli toglie Aspettate perché qui è a fare tanfa Ma voi vedete Perché io non vedo un cazzo di niente Uh fermi tutti Gli scheletri Anche gli scheletri Uh ma che meni a me Ma che cazzo sei Ma sei stronzo Cioè Mena a me Ma no Dai Scusa Sei stronzo forte Allora io voglio un attimo Andare da quegli scheletri là Perché c'è l'eventualità Che come Mi abbiano dato La testina Gli zombie Uh ho un arco Pim Pim Ma perché Perché cazzo Ah c'è uno scheletro Che si è presa con lo zombie Aio Aio il full plate Doppio spada Doppio arco Vieni qui Non volare Non volare via da me E via Vieni via da me Dammi la tua testaccia di merda Guarda come muoio male No No è un fulmine Via No 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 Scusa 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 Palettissima Porca Paletta Porca Allora ragazzi Mortacci tua Ma vuoi scappare? Vattene Vattene Vieni Paul 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 E Paul E sta fermo un attimo Paul Ma io te apro la porta e tu te ne fai E ti prego Vieni fuori Paul C'è un zombie dentro casa Ma che cazzo stai a dire? Ma Paul ammazzi i zombie? Ma tu da dove cazzo sei entrato? No raga No 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 Che c'è qui? No 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 Questa cosa è brutta 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 Vediamo se Paul effettivamente è un ammazza zombie Do you wanna call? Paul Buster Dai Paul 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 non mi rimane fermo così immobile come un cojone Dai Per favore Ok È aperta Mo esci da casa subito Vediamo come ti comporti Paul Mo vuoi rientrare? Mi dispiace Assisteremo alla tua morte È impassibile Oh oh Si è aperta No ma Come cazzo hai fatto? Ah bastardo Paul mi dispiace Ma sei Eri buono Paul Bene Allora ragazzi Io direi che il killer Joe Fa cagare Però Però Mi è venuta una mezza ideuzza Così D'emblè Che possiamo mettere in pratica Per la prossima puntata Perché? Ora che ci penso Qui non c'è zona di spawning Quindi se Oh ciao patate Quindi se Facciamo Un cubo Lo chiudiamo E ci facciamo Ci mettiamo l'ombra Tecnicamente Dovrebbero spawnare i mostri Se ci mettiamo un vacuum hopper E un killing Joe Ok Ci mette 100.000 anni Però alla fin fine Li ammazza E forse ci danno le teste E forse facciamo il soulbid E forse con il soulbid Facciamo lo spawner di Enderman E forse E forse Bella raga Ciao E per la prossima puntata Grazie a tutti